Ben ritrovati, oggi ci occupiamo del futuro delle zone interne sul piano dello sviluppo ma anche sotto il profilo politico e lo facciamo ospitando Rosanna Repole, sindaco storico di Sant'Angelo dei Lombardi, ex presidente della provincia di Avellino, esponente del Partito Democratico, intanto ben ritrovata Repole, grazie per la sua disponibilità come sempre. Allora partirei intanto da queste decisioni del Parlamento di tagliare il numero dei rappresentanti della politica, dei parlamentari, dei deputati e senatori, si rischia di penalizzare secondo lei territori che in qualche modo sono già svantaggiati sotto il profilo della rappresentanza? Innanzitutto grazie a te per questo invito, voglio dire questa riforma che forse sicuramente anzi è andata ad incontrare quello che era il desiderato della gente perché in un'epoca di difficoltà troppi parlamentari, troppe spese, ovviamente è stata fatta, è stata votata alla fine da tutti e risponde anche a un fatto che noi eravamo il Paese, siamo il Paese che avevamo il numero più alto di parlamentari, però a mio avviso questo è assolutamente insufficiente quello che è stato fatto, questa decisione, questa riforma va accompagnata da tanti altri provvedimenti che riescano a bilanciare in maniera chiara la rappresentanza dei territori perché altrimenti si rischia di essere non rappresentati e anche il discorso della partecipazione democratica dei cittadini che non riconoscendosi in un punto di riferimento alla fine sarà un ulteriore elemento per disamorarli alla partecipazione e credo che noi in questo momento nel nostro Paese abbiamo sempre più bisogno di far recuperare, considerando anche il grande numero degli astenuti, dei non partecipanti al voto, un senso del dovere e del diritto della partecipazione democratica, quindi credo che sarà responsabilità del governo, del Parlamento assumere altre decisioni nei tempi giusti per cui quando si va a votare si vota rispondendo a tutte le esigenze. Certo, intanto parlando delle zone interne è stato istituito un tavolo apposito con il contributo della regione Campania tra Irpini e Sannio, il rapporto con Palazzo Santa Lucia come è stato secondo lei con il governo De Luca rispetto a quanto era avvenuto invece con Caldoro in passato? Io devo dire la verità che per quel che riguarda l'amministrazione Caldoro io cerco sempre di essere equilibrata e sicuramente ci sono state delle cose tipo la politica sanitaria che non erano assolutamente condivisibili, però poi c'è stata anche un'attenzione alle esigenze dei territori accogliendo una serie di progettualità con l'accelerazione della spesa che poi sono diventati progetti concreti sul territorio su cui io da ex sindaco, da sindaco di San Angelo dei Lombardi non posso che esprimere in questo senso un giudizio positivo. Indubbiamente De Luca ha dato uno slancio nuovo, è un presidente che con il suo entusiasmo, con la sua forza anche con la sua determinazione ha lavorato bene e ha fatto una serie di cose. Tornando al tavolo delle zone interne dobbiamo fare chiarezza dicendo che una cosa è il progetto pilota dell'Altirpinia che con le sue difficoltà alla fine ha raggiunto una forma di equilibrio e in questo momento voi nei beni culturali, voi con l'azienda forestà si cominciano a raccogliere i primi frutti, anche qua senza nascondersi le difficoltà che ci sono state, ma non si può non riconoscere che oggi ci sono i primi frutti. L'altra parte il tavolo è un tavolo che parla di zone interne, potremmo dire anche di zone interne appenniniche, cosa che riguarda il Sannio e l'Irpinia, è un tavolo importante a mio avviso perché va anche oltre, parla anche della programmazione 2022-2027, la prossima programmazione europea e cerca anche di capire bene in queste zone che cosa serve, sapendo che necessariamente deve essere fatto un discorso comune fra Irpinia e Sannio perché siamo poco più di 700 mila abitanti, le due province, di questi molti abitanti sono nelle zone interne, abbiamo lo stesso problema della desertificazione, del calo della popolazione e quindi dobbiamo prendere coscienza di questo, mi sembra anche molto importante la presenza dei Vescovi e il contributo che è partito dal forum degli amministratori, poi continua a questo tavolo, poi l'ultima cosa, questo non è un provvedimento spot della Regione, ma c'è un decreto del Presidente che ha istituzionalizzato questo tavolo, quindi andrà oltre, continuerà anche dopo le elezioni. Ecco, restando sulla prospettiva di questo territorio, la provincia di Avellino punta sul sistema Irpinia per rilanciare il turismo, è una buona idea questa del Presidente Biancardi secondo lei? Allora, il Presidente Biancardi nelle sue, nelle sporre in consiglio provinciale, oramai un anno fa, le sue linee programmatiche chiese la condivisione su questo progetto, senza nasconderci che noi venivamo da una campagna elettorale in cui avevamo assunto posizioni diverse, io, ma non solo io, tutto il consiglio provinciale ha condiviso che era importante raggiungere questo obiettivo e credo che in un anno aver ormai istituzionalizzato la fondazione, bisognerà solo andare dal notaio il 29, ma tutti gli atti sono stati fatti, aver parlato di questa piattaforma in progress che possa dare una risposta a tutte quelle che sono le esigenze del territorio, aver diviso il territorio in distretti culturali omogenei con punti di riferimento che coinvolgono giovani in questi sportelli informativi, diciamo tutto questo sistema che punta in maniera innovativa alla promozione del territorio attraverso la cultura a me sembra una cosa avanzata, intelligente, a cui secondo me ognuno per la propria parte dovrebbe dare un proprio contributo. Bisogna anche considerare che nella difficoltà che vive oggi la provincia, perché io sono del Partito Democratico, ma la legge del Rio è una legge incompiuta, aveva un senso quando è stata fatta perché si arrivava all'abolizione delle province. Oggi ci sono le province con delle funzioni limitate. In questo momento sapere che questa provincia è una provincia sana economicamente, che non solo investe per i compiti strettamente istituzionali, vedi le scuole e le strade o l'ambiente, ma valorizza quello che potrebbe essere considerato marginale, lo sviluppo del territorio facendo investimenti e coinvolgendo Camera di Commercio, Proloco, Confindustria, Turing, CTA, che soprattutto una serie di associazioni e di mondi che su questo territorio stanno lavorando, a me sembra una cosa molto buona. Ecco, intanto il territorio delle zone interne fino a qualche tempo fa veniva considerato un'isola felice dal punto di vista del pericolo della criminalità organizzata. Oggi invece scopriamo con l'inchiesta sul nuovo clan Partenio, c'è la conferma se vogliamo, di infiltrazioni anche nell'entroterra della Campania e soprattutto in Alta Irpinia. Eccoci da essere allarmati secondo lei. Allora, innanzitutto io voglio dire che esprimendo totalmente la solidarietà e la fiducia nella magistratura avellinese, voi nel Presidente Beatrice, nel Procuratore Cantel, nel sostituto Donofrio. Devo dire che sono anche d'accordo con quanto diceva Donofrio quando dice non siamo in Svizzera, l'Irpinia non è la Svizzera da questo punto di vista. D'altra parte questo veniva detto anche all'indomani del terremoto da Franco Roberti che allora era magistrato a Sant'Angelo e gridava l'allarme. Noi dobbiamo prendere atto che anche da noi c'è questo tipo di problema, non dobbiamo nasconderci e in questo momento chi ha una responsabilità pubblica senza se e senza ma deve essere dalla parte della legalità. Dalla parte della legalità sicuramente con atti consigliari, con commissioni, con tutto quello che si vuole, però soprattutto ci devono essere gesti concreti in cui si capisce che chi ha una responsabilità istituzionale prende le distanze da questi mondi. Certo, parlando invece delle questioni di carattere politico, le vicende del Partito Democratico, qui in Irpinia la situazione è particolarmente difficile, se ne è reso conto anche il commissario Cennamo. Lei ha rivolto un invito ad abbassare i toni per riprendere a fare politica, ha detto nel partito, ma come se restano queste divisioni e questi veleni così forti? Sicuramente è una situazione molto difficile, d'altra parte se non era una situazione drammatica non veniva nominato un commissario che ha anche una funzione politica, un segretario politico a tutti gli effetti. Sicuramente Cennamo è una persona di esperienza, è una persona per bene, è una persona che si impegna con passione in questo compito che gli è stato affidato dal partito. Però credo che questo non sia sufficiente perché per troppi anni si è ragionato sulle divisioni e io dico sempre scagli la prima pietra che è senza peccato. Le divisioni hanno portato risultati drammatici per il Partito Democratico e nelle piccole realtà è l'ultima che si è consumata in città. Allora è anche arrivato il momento che tutti si facciano un esame di coscienza e offrano una collaborazione al commissario che sta facendo anche un lavoro di ascolto, di conoscenza dei territori, ben fa dire io parto dai problemi, però prima o poi arriverà il momento, il nodo, sarà dopo le elezioni regionali, però arriverà il nodo da affrontare e allora da solo non ce la potrà fare. Proprio in vista delle regionali si rischia secondo lei una faida interna per le candidature? E se si è molto responsabili, sapendo che la lista è composta da più persone, si può esprimere la preferenza, può essere anche un momento di chiarezza, diciamo, quindi io su questo, diciamo, se si è responsabili può non essere un momento di faida, però insomma, nasconderci dietro un dito e dire che il commissario possa risolvere tutti i problemi, questo significa, voglio dire, fare come gli struzzi, bisogna collaborare con lui e essere anche molto responsabili. Ecco, sul fronte invece della linea politica, secondo lei si può ripetere in Campania il patto PD 5 Stelle che, diciamo, sta governando il paese anche per la sfida delle regionali? Ma io, insomma, nella mia vita ho sempre ragionato che ognuno deve muoversi e dare un contributo secondo il proprio livello e non serve dire io sono, io posso fare, io posso dire, io do diktat. Indubbiamente nessuno pensava che il Partito Democratico, che insomma, vuol dire, sembrava destinato a stare 5 anni all'opposizione, potesse ritornare al governo così presto. E nessuno pensava che il capo del governo facesse, diciamo, un cambiamento, una svolta, per cui se, voglio dire, quando parlò la prima volta alle Camere, insomma, non ci si riconosceva oggi nei suoi interventi, insomma, ci si può riconoscere. Allora, a questo punto bisogna vedere come vanno le cose a livello nazionale, bisogna comprendere che cosa accadrà nelle regioni che vanno prima di noi al voto e poi, fermo restando che il nostro governatore ha ben lavorato e ha il diritto, voglio dire, a ripresentarsi, starà poi alle persone che hanno la responsabilità politica, partendo da lui capire come creare le condizioni perché la Campania possa rimanere, voglio dire, in maniera chiara e definita al centrodestra per il governo, al centrosinistra per il governo. Certamente comunque la presenza proprio di De Luca, la candidatura di De Luca sarebbe un ostacolo a questa intesa, almeno a giudicare dalle dichiarazioni che arrivano soprattutto dal Movimento 5 Stelle della Campania. Beh, questo si legge, voglio dire, però in politica mai dire mai, quello che non è accaduto oggi può accadere nei prossimi 5-6 mesi. Io credo che bisogna lavorare tutti, tutti avendo un obiettivo preciso, dare alla Campania un governo di partecipazione democratica, quello a cui noi crediamo. Certo gli altri lavoreranno per un'alternativa, però questo credo che sia il mestiere e faccia parte, voglio dire, anche di un gioco democratico. A noi la responsabilità di fare le cose fatto bene, partendo dai territori e sicuramente poi per arrivare anche ai livelli più alti. Bene, saremo a vedere. Intanto grazie a Rosanna Repole del Partito Democratico che è stata nostra ospite, ringrazio in regia Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.